Dopo l'incontro costituente che si è tenuto il 24 di agosto scorso al Parco della Grancia, Potenza, il movimento lanciato da Pino Aprile, giornalista e scrittore, autore di decine di libri che affrontano la questione meridionale nonché del libro Terroni, un saggio giornalistico in cui descrive la sua ricostruzione degli eventi che avrebbero penalizzato economicamente il meridione dal risorgimento, sino ad oggi ha cominciato a diffondersi in tutto il meridione. Il movimento, che prende il nome della data costituente 24 agosto, appunto, nonché dall'obiettivo che si prefigge dove ET sta per equità territoriale, è frutto dell'esigenza di far nascere un'iniziativa politica di vera e propria emergenza democratica. A Ragusa, al Centro di Aggregazione Culturale, invia Mario Leggio il battesimo ufficiale nel capologo ebleo. Il movimento di Pino Aprile nasce per l'equità territoriale e già ci sono i circoli di Pino Aprile in tutto il sud, anche nel nord Italia. Oggi siamo qua per inaugurare il primo circolo a Ragusa, grazie a degli amici che si sono intestati questa nuova, non dico battaglia, questo nuovo modo di fare politica. Non siamo la Lega del sud, questo ci tengo a precisarlo, la Lega è un partito razzista che ha fatto la sua fortuna denigrando metà del paese. Noi siamo per l'equità territoriale. Il movimento di Pino Aprile chiede solo che ogni cittadino italiano abbia le stesse condizioni al nord e al sud. Il movimento nasce perché abbiamo preso coscienza del fatto che il sud è sempre stato depauperato di risorse. Cosa vuol dire essere depauperati? Vuol dire che non avendo i soldi non possiamo fare nulla, vuol dire che non avendo i soldi non abbiamo gli ospedali, non abbiamo le infrastrutture, non abbiamo le scuole, non abbiamo nulla. Siccome è stato perpetrato questo furto nel corso degli anni, pensate, quando la Lega parlò del federalismo differenziato e disse che è a favore del meridione, noi ci siamo chiesti dove è la truffa. La truffa siamo andati a vederla ed è stata certificata dai bilanci dello Stato e nel fatto che si erano presi, avevano rubato 61 miliardi di euro l'anno per 10 anni per portarli dal meridione al settentrione. E quindi noi, avendo preso coscienza di questo fatto, lotteremo perché venga ristabilita l'equità, perché tutte le persone abbiano ciò che la Costituzione statuisce, gli stessi servizi per tutti. Non ci sono cittadini di serie A del nord e cittadini di serie B del sud, uguali. Adesso tutti si stanno occupando di sud, tutti i partiti politici italiani hanno scoperto che esiste il sud, che esiste il sud degradato, ma sono realmente inaffidabili. In primis Renzi che è quello che ha chillerato la regione Sicilia mandando baccei e depredandola di 7 miliardi l'anno. Il presidente Musumeci è andato ad abbracciare Salvini l'altro giorno sul palco per cui andate a abbracciare il suo carnefice. Della lega ovviamente non ne parliamo. I 5 stelle che dovevano rivoluzionare il mondo non hanno rivoluzionato nulla. Quindi sono realmente tutti assolutamente inaffidabili e loro vorrebbero porre rimedio ai guasti che hanno provocato in questi ultimi 30 anni, ma se li avete provocati i guasti non siete capaci di risolverli. Quindi dovete andare a casa. Quindi movimento per l'equità territoriale.